Siamo nel quartiere della Gammarana e siamo nell'area camper voluta diversi anni fa dall'amministrazione comunale di Teramo. Oggi quest'area è nel più totale abbandono e soprattutto non si vede l'ombra di un camper. Tra le zone di maggiore degrado c'è quella che vediamo in questo momento, ovvero la grata, dove vengono ripuliti e svuotati i bagni chimici dei camper. Come è evidente anche dalle immagini questa grata non è stata mai pulita e bonificata. Girando lungo il perimetro dell'area dove c'è il verde, ribadiamo con l'erba alta e dunque incolto, la costante sono proprio i sacchetti dei rifiuti, anche in questo caso direi tra virgolette i sacconi dei rifiuti perché c'è chi anche butta sacchi grandi pieni di rifiuti, questo è anche rotto, internamente si vedono soprattutto bottiglie di plastica e poi ancora verde incolto, pacchetti di sigarette, bottiglie di plastica, ancora come in questo caso un altro sacchetto dei rifiuti abbandonato, ancora il ba alta, fazzolettini bagnati utilizzati, bottiglia di plastica e poi c'è un'area che è meno visibile anche dalla strada dove i rifiuti sono di più. Altro saccone dell'immondizia, bottiglie ancora di plastica, scatoloni e addirittura un sacco di plastica che contiene probabilmente rifiuti che derivano dal giardinaggio. Eccola dunque l'area camper senza camper lasciata al più totale abbandono. Stamattina l'assessore all'ambiente del comune di Terramo Baldo di Buonaventura ha effettuato un sopralluogo e ha promesso anche interventi immediati intanto per bonificarla.